Per evitare sia il rischio di prescrizione che quello di possibili danni erariali, i revisori dei conti del Comune di Brindi si hanno invitato ai dirigenti ad adottare tutte le misure necessarie per la riscossione dei proventi derivanti dai beni immobili dati in fitto o assegnate in concessione. A Palazzo di Città in effetti è in corso la verifica sulla titolarità e sulla regolarità dei pagamenti e si è scoperto che con riferimento a Calamaterdomini la prima spiaggia pubblica della città qualcosa non torna. O meglio, i conti non tornerebbero stando a quanto emerso da accertamenti svolti dal settore servizi finanziari dai quali sarebbero emerse alcune irregolarità nel pagamento del canone di concessione pari a 41.000 euro l'anno, importo stabilito nel contratto sottoscritto il 6 ottobre 2021. Per fare il punto della situazione, il 15 aprile scorso si è svolta una conferenza dei dirigenti e la responsabile del settore patrimonio all'esito della riunione ha comunicato di aver avviato il procedimento di revoca della concessione, riconoscendo al titolare del contratto il diritto di partecipazione, così come previsto dalle disposizioni di legge. La concessione, stando agli accordi tra il privato e il pubblico, ha durata di tre anni ed è contemplata una possibilità di rinnovo per altri due a discrezione dell'amministrazione comunale previa valutazione dei risultati ottenuti. Ma se il comune dovesse revocare la concessione, allora sarà necessario un nuovo bando da pubblicare a stretto giro, visto che l'estate è alle porte.